Nuova puntata di Musica Fette, siamo a Anytime Vintage Corner a Parma, con noi in console Stefano Gambarelli che in questo momento ha appena terminato il suo set. Grazie di essere stato nostro ospite e la prima domanda che faccio a tutti è che cosa ci hai fatto ascoltare? Ti ho fatto ascoltare praticamente un medley di cose nuove e vecchie, con sonorità abbastanza simili, messi assieme. Perché diciamo la verità, non sei proprio un DJ di primo pelo, sei in console da quanti anni? Da 36 anni, dall'80. Ho anche calcolato fino a due anni fa, avendo delle agende che tengo anno per anno, ho calcolato circa 7600 ore di console. È un numero inquietante. Certo. Senti Stefano, però questa grande passione per la musica, quando è cominciata? Qual è stato il primo ricordo che hai della musica? Hai cominciato praticamente già a 14 anni perché mio fratello faceva parte di una radio libera, una delle prime nate in Italia, che si chiamava Antenna 11, che era sull'Appennino toschemigliano. Comprava e portava a casa continuamente dischi e da lì ho iniziato a usare il giradischi, allora a Torrens, ascoltare qualsiasi cosa. E subito dopo, quando ho iniziato a uscire un po', a andare in discoteca, soprattutto le serate afro-funky, perché diciamo che la dance non mi è mai piaciuta un granché. E sono nato sia come ascolto, sia come DJ con l'afro-funky. E poi dopo, il passaggio successivo dell'arrivo in console, quando è capitato? Il passaggio successivo è capitato praticamente sempre con una matrice funky, in locali che facevano questo genere, diciamo dell'Interland emiliano, Modena, Reggio, qualcosina Parma, ma Parma poco. Soprattutto Modena, Reggio, un po' Bologna, tipo il Ciacca, Bologna, queste discoteche qua che... E poi da lì in poi, vabbè, dopo ho avuto un periodo sempre legato a quel genere, però che era diventato più elettronico. E poi nell'86 è arrivata la House Music e da lì è partito tutto. Ecco, bravo, è partito tutto dagli anni Ottanta, alla fine degli anni Ottanta. Quali sono i ricordi più vivi che hai di quell'epoca? Di quando è cominciato l'epoca della House Music? Beh, quell'epoca era un periodo molto simile a questo, cioè c'era una gran confusione musicale dove va tutto e va niente. E praticamente l'House è saltata fuori un po' in sordina appunto a metà degli anni Ottanta, come genere nuovo, addirittura i DJ italiani la chiamavano la Casa del Suono, non House Music. Perché appunto era stata pubblicizzata da un sacco di giornali dell'epoca, Casa del Suono di Chicago, che era la traduzione letterale di House Out of Chicago. Dove praticamente c'erano tutti questi DJ di Chicago, che poi era anche a New York il Movimento, Frankie Knuckles e Compagnia Bella, che facevano musica in casa usando i campionatori dell'epoca, che erano gli Akai 900 mi pare. Esatto, 12 bit, pochissima memoria. I computer usavano gli Atari ed era però in America era un boom assoluto che in Europa non era ancora arrivato perché praticamente era proprio una cosa casalinga, facevano musica in casa con i sample, tagliavano, 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 cucivano, tagliavano, cucivano, tagliavano, cucivano e avevano creato un genere. Non si sentivano benissimi i dischi perché erano molto cupi, molto sporchi, però anche quello era una cosa che ha fatto un po' di tendenza nel tempo. Infatti ci sono varie teorie sul fatto da dove è arrivato il nome House Music. Alcuni dicono dal warehouse dove suonava Frankie Knuckles oppure il discorso della musica fatta in casa. Io ho la prima uscita che è DJ International, la prima uscita proprio comperata a New York in quel periodo lì ed era House Sound of Chicago ed era una compilation con quattro pezzi ed era il primo disco house uscito in assoluto. Dunque House Sound of Chicago ed era lì. Certo. Nella tua carriera di produttore, non il pezzo più famoso, qual è il pezzo a cui sei più affezionato? Beh, sono parecchi i pezzi che sono molto affezionato. Tipo quello di stasera che ho messo di Ferrer, Sidenham o Sidenham. Suncastle è un pezzo che mi è sempre piaciuto molto, però sono decine e decine di pezzi a cui sono molto affezionato. Secondo te quali devono essere le caratteristiche di un pezzo che in qualche modo ti emoziona? Beh, direi che deve essere la melodia. Cioè, difficilmente un pezzo che è basato solo sulla ritmica ti fa ballare, ti fa divertire, ma se ti deve emozionarci deve essere anche solo tre accordi, ma la melodia deve essere forte. Una storia, ci vuole un minimo di storia. Puoi anche essere due note, per dire il tasto che tiene Waters con Wish Over Year, ti fa emozionare, perché non so perché, è una cosa che non ti so spiegare, perché lui tiene premuto un tasto, però un tasto che... Eh, vabbè, insomma, quel tasto lì ti fa emozionare. E parlando invece della vita del DJ vero e proprio, tu hai fatto tantissime console importanti, però anche lì ti chiedo qual è quella che ti è rimasta nel cuore? Beh, sicuramente la Villa della Rosa Riccione, anche perché sono 24 anni, dunque non è che 24 anni di un posto dove vai tutte le settimane per 24 anni sicuramente ti rimane. E dunque, sicuramente, anche perché l'ho costruita, diciamo, insieme a dei colleghi, ma l'ho costruita da zero, perché l'ho presa, che era il vecchio locale gay, chiuso da tre anni, è stato rinnovato, è partito, e piano piano, piano piano, piano piano, secondo me attualmente è il club numero uno in Italia. E lo dico senza, voglio dire, legami strani, perché io non ci lavoro più, dunque Marimane, secondo me, è il club numero uno in Italia. Secondo te come si fa a rimanere in un qualche modo rilevanti in un periodo così lungo, 24 anni, quali sono le chiavi per rimanere interessanti, per non diventare banali? Beh, credo che la passione e l'entusiasmo legato a questo lavoro è la cosa principale. Poi dopo nel tempo, come sono cambiati i tempi, subentra anche un po' di politica, un po' di pubbliche relazioni, ma neanche pubbliche relazioni, di saper gestire i rapporti con le persone che lavorano lì e soprattutto con quelli nuovi che arrivano lì, che capita che nel breve tempo prendano già una certa importanza, secondo me in maniera eccessiva, comunque questa è una valutazione mia, ed è quello che conta. Prima di tutto passione e innovazione, sempre aver voglia di proporre cose nuove, anche a volte andando contro, un pochino rischiando, andando contro quello che il pubblico vuole, perché devi anche proporre, anche perché a me hanno sempre insegnato i miei maestri, tra virgolette, uno a caso, Daniele Baldelli, che... Parliamo forse del DJ numero uno in Italia. Il DJ deve al 70% proporre, perché se il DJ fa solo quello che gli chiede la gente o mette solo quello che va in quel momento, è un jukebox, è come se mettessero il gettone, non è... Ti faccio una domanda provocatoria, che però in realtà mi hai già risposto. Secondo te è un po' colpa dei DJ questa crisi della musica, questo fatto che, diciamo, la gente, sai, non sa cosa ascoltare, ascolta solo brutta musica? Beh, credo che sia colpa dei DJ di riflesso. Cioè la tecnologia, purtroppo, nel bene e nel male, ha fatto sì che chiunque può fare il DJ, perché se io neanche voglio dire tractor, serato, c'è addirittura adesso ci sono dei programmi da computer che tu selezioni quello che ti piace e il programma ti mette a tempo, in tonalità, in sequenza di BPM, i pezzi. Dunque tu se vai in qualunque discoteca, attacchi all'amplificazione il computer, fai play, parte un set già fatto, la gente vede che sei tu, ma in realtà il computer che ha fatto il set, tu hai scelto i pezzi, e dunque sei diventato un DJ. Ma in realtà non sei un DJ, ti sei selezionato quello che faceva il ragazzino vent'anni fa in cameretta, sei selezionato quello che gli piaceva e ha fatto la cassettina da ascoltare in macchina. Con queste tecnologie in realtà ha fatto un set già mixato in tonalità a stessa velocità da proporre in discoteca. E ho visto anche in alcuni posti dove il set dura un'ora, lui doveva suonare due ore, lui fa ripartire il set dall'inizio. Geniale, geniale. Senti, secondo te che cosa vuol dire essere un DJ invece? Ma un DJ è prima di tutto un selezionatore. Sperando che abbia un buon gusto, però è un selezionatore. E secondariamente è un miscelatore, cioè deve avere un minimo di cognizione di come abbinare i dischi, non solo che stiano bene tra di loro, ma creare un'onda anche che porti a iniziare la serata in un certo modo e creare questo su e giù dove esplode, si siede un attimo e riparte per poi fare il finale. Un occhio sulla pista, il vecchio occhio sulla pista. Quando ci dicevano ma voi guardate la pista? Io mi ricordo i primi DJ che mi insegnavano mi dicevano tu guarda sempre la pista. Guarda cosa fa la pista se non ballano hai sbagliato. Certo, no no è così. E nello stesso tempo però il fatto proprio che tu faccia il DJ dunque essendo propositivo cosa succede? Che devi guardare la pista metti casomai il disco che conoscono e intanto quello dopo fai un po' di bastone carota fai ascoltare quello che tu vorresti che conoscessero in futuro. E certo, gli dai la pillola quel qualcosa di nuovo che pian piano gli appassiona dentro è una cosa già conosciuta. Una volta si faceva uno e uno uno e due adesso è molto più dura perché essendo i dischi che vanno pochissimi dunque devi fare uno, quattro uno, cinque sono cambiati i rapporti esatto e se non hai proprio se non hai proprio diciamo un locale bello pieno che risponde diventa duro poi dopo ci sono le concorrenze dei generi diciamo dell'ultima ora quelli di moda al momento che tendono a minarti ancora di più perché molte volte come in questo periodo appunto il reggaeton che non demonizzo è un genere può piacere o non piacere ma secondo me in certi posti non ci sta però uno lo vuol farlo fa però c'è come sonorità e come situazione il contragio di quello che è la music tu cosa ne pensi delle radio della programmazione delle radio e di quanto possono aver influito nella nel coinvolgere o meno la musica e le persone su un determinato genere musicale beh secondo me una volta coinvolgevano molto di più per quanto riguarda il club adesso coinvolgono molto meno perché ci sono molte radio molti grandi radio dj 105 a parte che hanno completamente abbandonato la dance e dunque fanno solo esclusivamente musica pop e molte volte musica pop di scarsissima qualità messa in heavy rotation 10-15 volte al giorno e tutto ciò contribuisce secondo me a inculcare ancora più ignoranza nelle persone dove che invece di essere indotte a conoscere 30 pezzi non so nell'arco di un mese delle novità ne conoscono 4-5 questo è vero tu se arrivasse un ragazzo che sta cominciando oggi a fare il dj tra l'altro ho scoperto e non so se è vero che ci sono 90.000 dj in italia leggevo poco tempo fa e quindi è un numero inquietante alla fine siamo troppi 90.000 dj per meno di 3.000 club compresi il disco bar perché una volta erano 7.000 una volta 10 anni fa erano 7.000 licenze della discoteca adesso sono 3.000 locali con più o meno 1.200 1.300 licenze della discoteca un calo verticale assolutamente tu cosa diresti a un ragazzo che viene da te e ti dice guarda io vorrei fare il dj qual è il consiglio che gli daresti beh distinto gli dico lascia perdere smettila no proprio non iniziare neanche però gli direi oh se ti piace guarda io ti posso dare 2 o 3 consigli nel senso di innanzitutto adesso con i siti che ci sono dove puoi ascoltare Beatport Tracksource o comunque altre cose così vai ascolti la musica e individui il genere che vuoi fare perché è importantissimo perché non c'è niente di peggio di suonare quello che non ti piace e io qualche volta l'ho provato su me stesso cioè proprio rendi un terzo sì e una volta che hai individuato praticamente acquista 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 compra sarebbe meglio acquista visto che è 1 euro e 99 tra l'altro tra l'altro non so se hai letto la news Beatport adesso lancerà anche il preordine dei pezzi in digitale quindi puoi preordinare un brand in digitale cioè acquista e poi inizi a provare a metterli assieme e nello stesso tempo casomai a mandare qualche mail o qualche messenger a locali o gruppi di pubbliche relazioni che fanno questo genere poi da lì in poi diciamo che il 70% va di culo e il 30% va di di bravura di bravura mi hai dato la palla e quindi voglio dire la schiaccio secondo te quanto è influito questo cambiamento tra il comprare il supporto fisico tu hai fatto un set completamente fisico con i vinili e il digitale quanto è influito in questo tutti sono diventati i dj ah beh rimanendo esclusivamente il vinile credo che invece di 90.000 sarebbero 9.000 forse o forse 900 anche perché c'è stato io che acquistavo la disco in e acquisto tuttora la disco più a Rimini in più compro anche cose su Discox o su altri siti che hanno vinile nuovo perché io continuo a comprare anche il vinile adesso non c'è male ma c'è stato un periodo tra il 2000 e il 2010 che i dischi avevano dei prezzi allucinanti cioè se tu volevi il disco in anteprima quello che era il demo il promo così i dischi costavano 40-50 euro a disco dunque un prezzo folle faceva una bella pulizia un bello spartiacco esatto c'era era una cosa cioè razzista quasi cioè o ero un DJ che poteva permetterselo o lasciavo lì fare il DJ oggi come oggi qual è visto che comunque è una carriera molto lunga qual è il sogno che hai ancora nel cassetto? beh di continuare a lavorare di cercare di fare la musica che mi piace e di lavorare in un locale dove oltre a fare il DJ faccio la direzione artistica perché tu oggi che conosci molto i locali come lo vedi il panorama italiano? eh come i DJ lo vedo lo vedo male perché comunque tranne pochi locali uno di questi è la Villa delle Rose tranne pochi locali l'impostazione dei locali in genere praticamente è fatta al buio cioè provano a fare questo non programmano neanche due volte non ha preso non dico che non ha preso ma non ha preso come si aspettavano loro perché le pretese sono rimaste quelle di prima senza capire che però non siamo più come prima cambiato molto se i numeri prima tu ti aspettavi mille e arrivava a 500 ti incazzavi adesso se ti aspetti mille e arriva a 500 devi essere contento è vero perché in molti si aspettano mille e arriva a zero è vero e dunque questa cosa fa sì che chi si aspetta sempre mille e che ci sono ancora tanti purtroppo tendono a cambiare ogni due o tre settimane le programmazioni ma in maniera drastica cioè passano a dire adesso faccio una cena spettacolo la cena spettacolo non mi ha reso quello che io pensavo dalla prossima settimana faccio il disco bar dalla prossima settimana faccio il DJ house dalla settimana dopo faccio il reggaeton quindi non hanno un'identità senza identità e questa cosa li fa arrivare a morire perché la clientela si crea col tempo come era una volta li hai portati di 100 quei 100 lì se hai dato una bella situazione diventeranno automaticamente dei tuoi PR inconsapevoli dicendo quello che hanno visto se gli è piaciuto e dunque la volta dopo sono 200 ma non sono 1000 la volta dopo è una cosa che cresce tutti i locali che ho fatto io dall'inizio che poi sono stati successo sono cresciuti nell'arco di stagioni non di settimane assolutamente però ti chiedo questa cosa perché parlavamo di PR negli anni 90 90-2000 la figura del PR era la figura principale nei locali e io da una parte l'ho vista in modo positivo e in alcuni casi anche negativo tu che l'hai vissuto perché adesso manca questa figura c'è poco da dire non esiste più in teoria ci sarebbe ancora questa figura ma la differenza tra quelli degli anni 90 che erano comunque preparati conoscevano i nomi dei DJ famosi conoscevano i locali i proprietari le situazioni così adesso c'è molti di questi PR soprattutto quelli in erba che però quelli in erba sono quelli un po' più presuntuosi vengono sempre le cose da Facebook dove diciamo che il 70% di quello che c'è scritto sono palle beh sei anche ottimista hai detto il 70% ci sono io vedo video postati di posti che non sono quei posti lì però da dei ragazzi giovani di adesso che sono rispetto a me sicuramente dei fenomeni usati nei programmi di taglio video musicale così e postano situazioni che corrispondono ad altri posti casomai questo locale del posto Pinco Pallino ore 3 Pinco Pallino Club tatatata io che un pochino mi ho viste dico questo è lo SpaceDB da 4 anni fa e hanno tagliato un pezzo di 30 secondi per far vedere che era pieno non solo pieno gente che non esiste più cioè tipo 40 animazioni con le piume ma dove sono chiaro chiaro beh certo perché se uno non conosce gli puoi far bere un po' di tutto certo ma infatti sto parlando di PR gli stessi DJ comunque addetti ai lavori abbastanza in erba che dicono cazzo questo posto è allucinante per forza lo Space è allucinante sì non è il Pinco Pallino di Pinco Pallino City ecco sì e questa cosa io l'ho notata non tanto un po' fa lo sto notando negli ultimi 4-5 mesi e sta aumentando oppure il DJ che dice tra un po' salgo io questo è un DJ il Pinco Pallino e sta facendo vedere praticamente la videata del Tomorrowland dove naturalmente si guarda bene nel taglio del video di non far vedere scritte da nessuna parte ma dico tra un po' salgo io cioè sei un ventenne che ha fatto tre locali in croce non so a Borgotaro perché siamo in zona per far capire e suoni in un festival con 50.000 persone davanti cosa è successo cosa è successo però però devo dirti il fenomeno EDM invece ha lanciato questi personaggi tipo se portiamo a Martin Garrix lui no no certo a parte che è un fenomeno discograficamente già finito perché io che bazzico da anni in questo in questo campo etichette spudoratamente EDM se non hai veramente un pezzo che devasta non prendono più niente sono ritornati ad accettare l'house o come chiamano loro future house cioè suoni più morbidi con la future house e spinning records e spinning records che ha avuto grandi difficoltà dicono i maligni fallita e riacquistata due soldi proprio per l'EDM perché avendo buttato tutto nell'EDM ha avuto anni di successi pazzeschi e nel 2015 che è stata l'inizio della fine del genere avendo investimenti importanti è crollata come crollato Bitport che si basava sui DM già TrackSource che è molto più house multigenere ha tenuto bene si ha tutito un po' di più in colpa è vero è vero programmi per il futuro che cosa farai nei prossimi mesi nei prossimi mesi sto iniziando a fare tre progetti con tre ragazzi diversi che hanno degli home studio e in più farò delle cose in studio da Larry Pignagnoli a Reggio off limits da dove sono nati io stesso ho iniziato in parte lì ma Benny Benassi Ann Lee Wickfield una ragazza che mi pare che sia di questi posti che si chiama niente famosissima è stata prima in tutto il mondo di questi posti famosissima ragazzi abbiamo un vuoto di memoria un vuoto di memoria adesso mi viene però mi viene mi viene va bene Tu e Futu era il pezzo Ah Ingrid Ingrid so che è di Guastalla però ha bazzicato tanto Parma sì 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 assolutamente vero verissimo e quindi questi tre progetti invece nei locali hai qualche residenza cose nuove ho la residenza la domenica il cui a Brescia più o meno una domenica sì una domenica no e per il resto al Dinamo a Reggio Emilia dove faccio una serata dove è totalmente mia proprio si chiama col mio nome la serata si chiama Freaksland che però è un progetto è un progetto legato a un progetto discografico dove praticamente suono quello che voglio sia con i vinili che con i quante ore? sono tutte dalle 11 alle 5 vabbè ciao la vecchia maniera esatto ma in molti posti non è sempre possibile ma in molti posti sono un po' dispiaciuto per il resident di quella sera lì ma in molti posti sto chiedendo di suonare io dall'inizio alla fine perché poi nascono dei problemi come è successo l'ultima volta e allora di incomprensione di incomprensione capita che io voglio fare una cosa in maniera bonaria il resident voglio fare una cosa simile alla mia ma non è prossimile e dunque preferisco prendermi i rischi e i meriti di comandare la serata e non dover dire cazzo questo qua mi ha fatto un inizio devastante allora faccio io che se sbaglio almeno la colpa è mia non posso biasimare nessuno va bene Stefano grazie mille è stata una bella chiacchierata ci siamo divertiti molto ciao a tutti i ragazzi di Alfa Planet e alla prossima ciao